è giorno, non è notte, è di nuovo giorno, adesso è notte, è di nuovo giorno e l'apocalisse moreremo tutti temo caro che molto più prosaicamente si tratti di due topi d'appartamento ah ci stanno dirubando, i nostri padroni come faranno poverini credo che ci sostituiranno nel giro di qualche giorno con altri pesci è giorno, è notte, è giorno, è di nuovo notte, è ora è giorno vuol dire che ci hanno già sostituiti, allora siamo noi gli altri questa è troppo complicata anche per me Detto fatto assicurazione casa, proteggere la tua casa non è mai stato così semplice